Niente da fare ragazzi, niente da fare, io l'avevo detto ieri nei commenti, io penso che il tennista che ha trovato oggi di fronte Fabio Fognini sia anche probabilmente il vincitore di questa edizione del Master di Shanghai, perché mi sembra in questo momento il più forte, il tennista del momento. Io penso, io l'avrei dato probabilmente come favorito del terneo anche se Djokovic non fosse uscito contro Zizi, ma adesso ha maggior ragione, Daniel Medvedev ha sicuramente tutte le carte in regola per trovare il suo secondo successo a livello Masters 1000 in carriera, Daniel Medvedev che batte con Fabio Fognini che non gioca male, 6-3-7-6 ma sinceramente ragazzi, Medvedev è di un'altra cilindrata, cioè perde 7 punti in tutto il match al servizio, dimostrazione di una solidità straordinaria da parte del russo, che probabilmente non potrà piacere particolarmente a livello stilistico, però ragazzi è un tennista solido, è un tennista che si difende benissimo, che ha una copertura del campo incredibile, che con il rovescio fa quello che vuole, che ha una prima di servizio invidiabile, probabilmente è uno tra quelli che serve meglio nel circuito, a cui appoggiarsi anche nei momenti decisivi, un'intelligenza tattica straordinaria, è un muro, è un muro ragazzi, cioè si fa sempre giocare quel colpo in più, si fa sempre giocare un colpo in più, e riesce a mantenere una freddezza incredibile nei momenti decisivi del match, cioè oggi veramente ha dato una dimostrazione straordinaria, di solidità, Daniel Medvedev, contro un Fognini, che non mi ha convinto, soprattutto nel primo set, più che altro perché, perché Fabio ha perso quel turno di servizio male, nel primo set, e gli costa un set, perché ragazzi, Fognini ce l'ha sempre, queste passaggi a vuoto, che perde anche in turno di servizio a zero, però contro uno come Medvedev, non te lo puoi permettere, perché va via un set, va via un set, perché un tennista solido come Medvedev non ti concede niente, niente, quindi è un minimo regalo, poi nel tie break finale, anche lì, peccato, nel terzo set si è andato avanti, 2 a 0 in quel tie break, poi si è fatto subito riprendere, Medvedev è riuscito a portarsela a casa con relativa facilità, Fabio non mi ha convinto soprattutto, perché si è lamentato un po' troppo, e soprattutto quando entrava la prima Medvedev, a parte spesso non partiva lo scambio, però quando partiva lo scambio, Fabio ha fatto troppi, troppi, troppi gratuiti, oggi ha fatto davvero una quantità troppo elevata di gratuiti, per poter competere con un giocatore del genere, perché Fabio i gratuiti li fa sempre, l'ha fatti ieri con Kachanov, l'ha fatti con Marre, l'ha fatti in qualunque partita, però per competere con un giocatore come Medvedev devi fare una partita della vita, devi fare una partita quasi perfetta, perché ragazzi questo è un avversario che non ti concede niente, che se non stai concentrato dal primo all'ultimo punto, la partita la perdi anche se giochi bene, oggi è stata l'ennesima dimostrazione, poi Medvedev ragazzi è diventato uno dei Fab Four adesso, perché dopo i Fab Three il quarto che era Marre adesso è diventato Medvedev, perché mi sembra che davvero già sia arrivato a un livello che gli può permettere di competere sia con Nadal, sia con Djokovic, sia con Federer, può davvero competere con tutti questi mostri sacri in questo momento, Daniel Medvedev, è appunto il favorito del torneo, perché in questo momento Pat Eroger è in difficoltà, Sverever è andato a servire per il match, tra l'altro adesso sono arrivato al tie break, Federer l'ha ripresa per i capelli facendo il contro break, adesso vedremo come andrà a finire, però semplicemente perché è un giocatore infurmissimo, un giocatore che non è calato ad una virgola rispetto agli US Open, io speravo fosse un po' più falloso come lo era stato un po' con Pospisela, però oggi ha giocato una partita davvero ai limiti della perfezione, certo qualche cosa da recriminare per Fognini, ma non più di tanto, semplicemente io credo che davvero ci sia una categoria di differenza, con tutto il bene che voglia Fabio però Medvedev è una categoria superiore in questo momento e bisogna ammetterlo. Tra poco Matteo Berrettini in campo, facciamoli sentire sotto il nostro supporto, forza Matteo, speriamo finiscano a breve Sverev o Federer, anzi speriamo non finiscano a breve perché così, perché se vince Sverev sarebbe anche una cosa non chissà quanto positiva per i nostri italiani al Master, quindi insomma vedremo come andrà a finire, speriamo che Roger a questo punto, io spero che Roger vinca il torneo a questo punto, però insomma la vedo un po' dura. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una nuova langra, un mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, comunque sempre forza Fabio Fognini, forza Matteo Berrettini tra poco, forza tutti gli italiani, ragazzi, io credo che con Daniel Medvedev abbiamo davvero trovato un tennista che nei prossimi anni potrà togliersi tante 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 soddisfazioni e vincere tanta tanta roba, e a questo punto, arrivederci ragazzi, fino al prossimo video.